Ferre, spiega a Fabij quanto è soffice di fare Crossy Road 2 come mappa? Non parlo neanche Non parlo neanche Non parlo neanche, no Allora Hai giocato a Getting Over It? Il giochino No, però è appunto per quello che lo dico, perché odio sti tipi di giochi Allora, il giochino di base, teoricamente, c'è il presente, è quello dove passano le macchine e devi schivarle Ecco, non si sa bene perché questo qua ci ha buttato in mezzo il parkour Quindi What? Sì, 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 non si sa bene cosa ha pensato nella vita, ma funzionerà così Ah, che figo Vieni, vieni, vieni Che bello Allora, abbiamo livello 8, livello 9, 10, 11, 12 e 13 Ok E la cosa bella è che se ci ingastriamo in un livello, comunque, possiamo andare qua e andare a livello successivo Beh, questa è una grandissima Ci fosse nella Chizor, se saremmo tutti più felici Ma perché Stef stiamo iniziando dall'8? È perché abbiamo già fatto Ah, perché è proprio il continuo Eh sì Allora Ok Ci sono le monete da prendere, ma delle monete non ce ne frega nulla Dobbiamo riuscire a superare questa zona Va bene, proviamoci Ok Ma io non vedo le cose che arrivano Perché quando giro la visuale, corro in quella visuale Sì, però tanto il primo livello, come puoi I did it! Solo Stef è morto? Sì Come puoi vedere Sono lente, volevo dire E mi ha tranciato nel mentre Eh sì, perché abbiamo potuto era facile A seconda, insomma Devo stare attentissimo Avete visto le scritte che ha fatto nelle pareti per farle sembrare tipo egiziane? Sì Sì Bellissima Ci può stare con il coso Ci sta Occhio! Vai! Ecco qua Bene, gran partenza Batti il 5 No, spesso ne è morto Te lo devi battere da solo Me lo batto da solo E lo batto anche io per te Grazie Allora Fede impazzita Ma come si fa? Ignora le monete Fede, primo appunto Dobbiamo saltare le zone nel mentre fare il parkour Quindi io penserei No ragazzi, non c'è checkpoint Eh, è ovvio Com'è ovvio? Vai, vai come se non ci fossero domani Proprio così Violo Non andrà bene, lo sai E invece ce l'ho fatta! Non ci credo Proprio lui Proprio lui Proprio lui Tutto dritto gliel'ho fatto Senza saltare a destra e a sinistra Ma va bene anche qui Oh 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 Gli ho schivato due Gigi Con una fortuna incredibile Sì, Fede Ma quando c'è il checkpoint? Io voglio sapere quello Spero qua Non c'è Eh, aspetta Vediamo Vuol dire che non c'è? Sì, 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 sì Perché devo fare due livelli? Ne voglio fare uno per avere il checkpoint Non due Vulcano Di male signore Che siamo tutti signori Eh, infatti ogni volta è impossibile decidere Vado a morire Ma ragazzi, ma dovevate aspettare le zone? Occhio entrambi Ci siamo passati Credo che bisogna partire a correre Proprio non appena parte Ok Ma è difficilissima Eh sì Ma non vedo, io non vedo niente No Mi mancava mezzo passo Non ci passi lì Eh, l'ho capito dopo Ho visto Stef Non so come passarci Quindi Perché mi sono abbassato io Appena parte subito Va, corri subito immediatamente Sì, sì E poi No, c'è, è troppo tardi Ti abbassi alla fine Ok, ok, no, è abbastanza easy Partendo da quel lato No, all'inizio Troppo tardi sono partita Troppo tardi Mamma mia Ti ha sfiorato in maniera incredibile Ok, quindi quella era la prima parte Questa è la seconda Ok Mamma mia, mi sono preso male Tipo ta Bravo Bravo Ok Bravo Qua c'è la pausa tra le zone Secondo me non ci arrivi, eh Secondo me non ci arriva Aspettate che ci provo Vai Per la patria Ci arrivi Ci arrivi Ok Io invece provo Da qua Sì, era la tattica migliore Mi sono pure preso la monetina Sì, hai fatto molto bene Uh, mi ha sfiorato la zona Mi l'ho dimenticato Nice E adesso? Adesso devi salire il vulcano Per forza Ok Che bella questa mappa È carina Mi piace un sacco questo stile Aspetta che qua c'è un passaggio segreto Ah, c'era una monetta C'è un parkour dentro il vulcano Ma perché si scivola nelle rocce? Ma lo devi fare per forza? No, non credo Abbiamo scratto il vulcano, Fere, è inutile Ah Totalmente Quindi Però dice che il vulcano ha tipo delle cave Quindi qua lo dice come consiglio Ah, davvero? Sì Ok, allora è quello che avevo trovato io prima Devi Sicuramente serve quello Devi trovare qualche posto strano Ok Devi fare quel parkour lì per forza Sì Accidenti, non sembrava facile Qui? Sì Ok Allora, aspetta però Qui non riusciamo a salire E dobbiamo saltare in quello? Niente Non scivolo dalle rocce E l'hai fatta Sì, a quanto pare fa Non me lo aspettavo neanche io No, che bello Dimmi che arrivi Sì Ok Guarda questa cosa Secondo me ci sbalza verso l'alto Usciamo dal vulcano Ma veramente? Sì, vedi Parte di ghiaccio Grande, bellissimo Dopo il caldo abbiamo il freddo Mi sembra giusto E condine nevose Carino, carino, carino Sta arrivando di sicuro Bentornata, Fere, andiamo Scusate, ma cosa c'è di pericoloso? Eh, credo che tu debba parcurare sulle nuvolette Sulle nuvolette, esatto Ma Eh, come fa ad arrivare alla fine? No, aspetta Ci ho provato Fere, secondo me è un max range per arrivare al ponte Scusate Scusate, sì Perché io ce l'ho vicino Sì Sì, ok No, no, no È facile, è facile Basta fare da qui Perfetto Sì, 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 sì Tutto più semplice del previsto Mi sa che ci sono delle zone, Fere Occhio Mi raccomando Niente morti stupide Tipo quella Mamma mia Ma qua l'acqua non la devo toccare No Vai Occhio, raga, all'ultimo salto Perché? Perché praticamente sbatti la testa No Non sbatti nessuno, solo nell'ultimo Ok Quindi un pochettino Eh, non lo so, non l'ho capito Sono morta Quindi non lo so ancora Spiegami cosa hai fatto Eh, niente Ho saltato prima per non sbattere dopo Però non so se E sei andato a sinistra Eh, sì Cioè non sei andato dritto Pensate quanto sono storico Cioè, per carità Io poi ho dato una testata e sono morto Eh, subito dopo Però la tua era più brutta Sì E se salto All'ultimo? Sì, è così Bisogna saltare all'ultimo Oh, cavolo Esatto Perché sbatti ma ci arrivi Ok Ok Occhio Feref Perché qua passano i veicoli Allora, credo dalla sinistra Aspettiamo? Sì Devi saltare all'ultimissimo Si avanza E ci si ferma qua Perché non è stato tiltando Mamma mia ragazzi Occhio all'auto No! Vieni qui! Ma dai! Hai il vizio Hai il vizio di andare No, qua non facciamo effetti speciali Siamo una casa produttrice low cost Ti dicevo Hai il vizio di andare dritto Quando finisci un livello Perché sei felice Te devi far passare Quanto ci avrei schierato Già Allora Feref Vieni Aspetta Sì, sì, sì Ormai aspetta Ok Cavolo raga È un casino Si rischia un botto qua Io anche ho perso il ghiaccio ormai Sì, anche io Feref Sto facendo senza ghiaccio Però sembra fattibile Basta partire subito dopo Che vedi un veicolo Esatto No, hai messo il piede Ma mi ha preso Cosa mi ha preso? Lo specchietto mi ha preso Il piede L'ho visto benissimo Eri leggermente esposta E vabbè stavo guardando Come dovevo fare a guardare? Che no Fere Stef Ragazzi No, eh Non vogliamo sentire che non ce la fai Non lo vogliamo sentire Arrivo, arrivo allora Ecco Non so com'è No, che carino Feref Guarda il mio schermo No, lasciamo in pace Stef Che carino Fa tutto schifo No, è troppo bellino No, anche quello fa schifo No, è bellino Questo è bellino Filatevi di me Allora L'unico consiglio che ci dà è Si paziente Ok Si paziente vuol dire Che quando entrerai in quella bocca Morirai Lo sai, vero? È palese C'è l'inferno dopo quello Guarda come io rimango qua Ad osservarti Mentre tu hai paura di entrare Ok Fammi sapere Cosa c'è? C'è l'inferno Esattamente Però non è quello che pensi tu C'è una cosa molto difficile Ok E bisogna essere pazienti Vieni qua Ok Non mi piace per niente Niente a me Non c'è un checkpoint in questo punto qui Eh, purtroppo però Vabbè, ma tanto non è che abbiamo fatto nulla di difficile Fino ad ora Eh, però Però dopo Fammi vedere Non solo Cos'è? Non solo No Adesso hai capito Ma l'hai visto quanto c'è la prima? Come? La prima è velocissima Opla Mamma mia Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai No Accidenti Ho sbagliato perché mi sono guardato in giro Ma ero avvantissimo Sì perché Come fai a guardare Quanto dura sto livello delle auto? Non puoi guardare Poco Ferre Ci sei quasi Basta che Ho cinque minuti che sto fatta Fa solo queste auto E semplicemente la cosa difficile È guardarsi intorno senza Cadere Cioè Sì Ma allo stesso tempo Io sono arrivato Abbastanza alla fine E diventano minuscoli quadrati Ok Ferre un'ora che l'aspettava Poi sono arrivato io Perché voglio essere sicuro Di vedere il primo veloce Che ho venito di vederlo passare Ma ci sono due primi veloci Quello anche Che ti frega Uno arriva da destra E uno da sinistra E non ho fatto il parkour principale Ottimo Ok Vabbè pure io Basta Mi ha contagiato Aspettate Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Livello 12 Un attacco di tentacoli C'è tipo un polpo Che attacca la città Aspetta Aspetta Sì ma io vi aspetto Da solo no Dovrebbe essere il penultimo livello E ci dice di mirare alla bocca Quindi di sicuro Dobbiamo entrare nella bocca Del polpo Pampo schifo Assolutamente sì Allora Macchina Ma questo parte Cioè tu attraversi La strada nella vita reale Senza guardare Ma sì Io vivo a Milano Appunto Non c'è un casino incredibile È appunto Io alla bocca Che bocca Ok Qual è la bocca Cioè scusa se gioca Al gioco del telefono È bravissimo Contanto che va dritto Non ho mai giocato a quel gioco Però so che cos'è Perché lo vedevo Nei miei iPhone che vendevano Ok Come trai Eh ce l'ho fatta Opla Però la bocca c'è un C'è un Allora Ma devi mica entrare là Magari da covacciato Ma non penso Corri dritto da covacciato Cosa vuol dire Ah è vero Funfa C'è una cosa sotto Cioè io glielo ho detto Sinceramente pensando Che sarebbe morto Grandissimo Grazie Gli consigli Sei un amico Ammorda Com'è possibile Non lo so Ti ho anche visto Ero di fronte a te L'abbiamo fatto in due Allora raga Io l'ho finito Cioè è stato semplicissimo Alla fine Occhio Fatte con calma Aspetta No io mi sposto Non voglio farlo insieme Lo sapevo che ti saresti messo in mezzo Però non ce l'ho Non so se erai corto a forza Non volevo ammazzarti Perché ci avrei rimesso io Bravi Ultimo livello Alleluia C'è la zona Avete visto? Non l'ho visto Allora praticamente In questi Ci sono queste sorte di anditi colorati E in realtà per mezzo Qua di anditi Andito si dice È una parola inventata da noi Corridoio Andito È romano Andito No Corridoio Corridoio E noi siamo anche Andito Che cosa devo dire Anditi No Andito lo usi solo tu Non è vero Lo usiamo qui Con diti Con diti Vabbè corridoi Morite Ci sono i corridoi Ci sono i corridoi Con le zone Morite male Sia nei corridoi Che nella vita Grazie Anche i nostri italiani Aiuto Che è sta roba Aspetta 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 Ma quando arriva? Perché sta arrivando l'altro Sta arrivando l'altro Eccolo Corri Corri Che fortuna che hai avuto Ti ha assiorato Ti ha assiorato Ok Andiamo Queste sono le cose per fare le tortine Morto Sei morto Io non so come si deve salire No come si fa? Ah Sì Cioè quindi come bisogna farlo? In quelli piatti In quelli piatti Ok Vai e prega Uh No Ma come abbiamo saltato insieme? Io sono morto e tu no Eh Ho il salto più veloce Devo essere abbastanza veloce Devo essere Ma dai mi ha preso la zona però Non c'è il checkpoint E io te lo cito E io te lo cito E io te lo cito Cioè Me lo stai chiedendo di farlo proprio Vado così Come lo vuoi citare scusami? Cosa? Cos'è che è successo? Come lo vorresti citare? Praticamente ho finito un'altra parte ancora E ce n'è un'altra ancora Cioè ci sono tre parti senza checkpoint Mamma mia Solo perché è livello finale Vabbè perché si diverte Qua come si fa a fare sta roba? Oddio Io ho aspettato che tipo passassero in contemporanea due parti e sono andato Adesso c'è un parkour infernale Ma dai No C'eri quasi Eh ma è difficissimo perché partono sconnessi Sì Sì infatti io ho aspettato che si collegassero un po' tra loro Quindi ho aspettato un po' di tempo No ma se qui scendo non posso No ragazzi ho saltato di sufficienza Devo riniziare da zero No non ci credo da zero Ma non c'è niente Niente No non è possibile Niente Bravo Poi è blu Ok Viola Non farli di sufficienza Sembrano semplici ma non lo sono mai Ok aspetta lì Di sufficienza ok Sì che tipo lo fai Sì 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 capito Uff Questo è tostissimo Aspetta Vabbè ma come fai a farlo quello? Il prossimo è terribile Uh penso voglio essere morto No Mamma mia Questo è il mio Cioè non puoi È finita vero? È finita Lo so Non morire ti prego non morire No infatti è l'unica speranza Sei la nostra speranza Ha esagerato Ha esagerato È troppo Ma chiediamolo Allora Ne ho fatto altri cinque da quando ci siamo abbandonati Mamma mia Perché ti fa fare tutto il giro Però quelli difficili sembrano superati al momento Eh no quello è difficile uguale Sì di nuovo Ti prego Ok Ne manca uno difficile Ne manca uno difficile Vai Ok Ok Non devo fare scemenze Moneta Ok aspetta 13.5 C'è un altro livello Ma non c'è checkpoint Ferri ha preso un checkpoint Non lo so staff Non ti ho visto Ferri ha preso il checkpoint Non lo so Ferri ha preso il checkpoint Spero di sì Adesso lo scopri Sì C'è il 13.5 ragazzi No ragazzi Non ho parole Cosa devo fare Ma nessuno l'aveva chiesto Nessuno l'aveva chiesto Esatto Non era proprio richiesto Nessuno lo voleva fare Cioè Non ho capito cosa Ma lo stai vedendo Sì lo vedo Difficilissimo È una cosa super complicata Più di questo Ti prego Ce l'ho fatta Finito Vai al diavolo Vai al diavolo mappa Bravo Grande Alte F4 Grande Stef Alte F4 Alte F4 Disinstalla Come funziona Esatto Come si disinstalla Sto gioco Non voglio più vedere Basta Non so che dire Mamma mia La prima forse era peggio Ferri che dici Sì È stata peggiore la prima Perché la prima non era solo l'ultimo livello Era tutto Sì esatto Invece gli altri livelli qua Sì erano difficili Ma abbastanza fattibili Ti faceva impazzire solo l'ultimo Però C'è più di vizio Di picchiarli così I livelli Assolutamente Assolutamente In ogni caso Ci fermiamo così Per fortuna Ce l'abbiamo fatta Ci siamo presi Un sacco di macchine In faccia Zone Salti Tutta la roba brutta Nel mondo possibile Immaginabile Qua sotto Come sempre come per altri video Iscrivetevi al canale Capellina E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao